ciao a tutti amici oggi farò lezione numero uno come abbattere un mig 29 s che è questo qui adesso clicco veterano e l'intelligenza artificiale gli ho messo di andare oltre i point che sarebbero questo questo è il mio il point 1 io l'ho messo qui perché così l'aereo mi va nella sua direzione ok torniamo sul mig il mig ha montati questi missi sarebbero i primi questi qua ok torniamo indietro chiudiamo questa finestra e vado in volo io ciò a scusate i miei missili sono solo questi io ho aggiunto questi ho tolto i serbatoi erano qui c'ho due am 9m e due 7m anche qui vedete am 9m am 9m am 7m sono missili a corto raggio perché quelli a lungo raggio sono questi qua dai m 54 fino a questi qui ok forse gli am 7m sono un po più no non credo questi qua sono ancora più a corto raggio questi qua sono a medio raggio ok chiudiamo qui e vado in game mi dice sì perché di salvare perché ho ho messo il tra chi r poi ho mosso quel il point vedete nemico e mig 29 allora la prima regola è questa qui una volta agganciato il mig 29 devo tenere senza sparargli devo tenere il più possibile non sto leggendo nulla sto soltanto pensando a questa lezione numero uno devo tenere il più possibile nemico quando e se vira al contrario perché una volta che l'ho agganciato lui sa di essere un bersaglio si sta girando verso di me e potrebbe lanciarmi un missile io quindi lo devo tenere più stretto possibile fino a quando vedrò una croce che significa che non posso lanciare i missili così non li lancia neanche lui e così lui scenderà in quota minima scenderà per risalire e abbattermi con un missile spero di farcela nel video precedente a questo nel golfo persico ce l'ho fatta e adesso ve la spiego questa manovra un po il tempo di caricare ok allora siamo già in volo metto la manetta al 50 per cento eccolo laggiù vediamo un attimo ho messo caucaso soltanto per i fotogrammi ok adesso metto i missili la ricerca vediamo che posizione lui forse ecco devo ecco lui sta virando ecco a destra sa di essere rilevato io sto prendendo il gas al ma ha sganciato il serbatoio per essere più leggero ecco sta lanciando il missile contro misure fuori ci ha toccati ci ha toccati avete visto mi ha toccato il radar non posso più prenderlo non posso più prenderlo non posso più prenderlo devo mollare qui e rifare la missione vedi mi ha bloccato il radar cioè col missile lanciato mi ha danneggiato il radar e quindi è dovuto un attimo un attimo uscire fuori perché non sarei stato abbattuto comunque allora vediamo nella missione editor no continuiamo dai continuo così vediamo un attimo fino a quando così anche bello da vedere lasciamo perdere il gun che mi fa perdere tempo non rileviamolo non lo rilevo così lo tengo a sorpresa ok non lo rilevo senza rilevarlo ho messo il C the winder che ne ho quattro sulle ali vediamo non lo rilevo così e sono a effetto sorpresa le ali sono chiude ok rileviamolo adesso che sono vicino saliamo di quota ok ha sganciato il salbatoio sta per girare non sgancio vorrei potrei abbatterlo eh non lo faccio ok gli ho dato la possibilità come nella realtà di avviso ho riazionato il radar 4 o'clock low è basso laggiù sta ritornando su devo scendere in quota minima non ce la faccio con la velocità non ce la faccio ritorno su contro misure fuori vedete la contro misura fuori non riesco a rilevarlo eccolo sotto non lo vedo più non lo vedo più non lo vedo più sono in forza G ha lanciato un missile non lo vedo non riesco a individuarlo ecco la missile fuori ok lui sta andando tutta forza contro misure fuori fuori contro misure il missile è lì l'R60 contro misure fuori ok e dietro e dietro di me il missile fuori 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 la contro misure fuori la contro misura e dietro il MiG è adesso sono messo male con gli A sono messo male ci entra a fare veloce, vediamo quanti missili ha lui, ne ha ancora due, due o tre, sono in forza G, non ce la faccio, fuori contro misure, fuori fuori il missile, sta suonando, fuori contro misure, ci ha presi, ci ha presi, mi sa che mi ha preso, mi ha preso, vedo le fiamme e Jack, non è facile, siamo usciti l'aereo, dove è andato ormai, vediamo il MIG, aveva ancora un missile, è andata bene, ok, quit, engine crash o jet, ok, voliamo di nuovo, questa volta però non l'aggancio, ok, non l'aggancio, sto tentando di alzare la, la, il tv qua sotto, il display, questo qui, VDI, con il joystick, per vedere se riesco a vederlo, forse si, abbasso un po', ecco lì, ha già agganciato ma senza missili, vediamo che cosa fa, ha sganciato lo stesso, missili in azione, devo chiuderlo, devo riuscire a chiuderlo, ecco, forse adesso, ah si, allora ti sgancio anch'io, ci ha presi ancora, abbiamo una spia rossa, mi ha preso, guardate, è riuscito a prendermi ancora, ce l'ha fatta, adesso proverò a fare una manovra diversa, siamo belli alti, prima che si aprono i paracaduti, ok, tentiamo un'altra missione, c'è un'altra missione, un tipo, non devo agganciarlo, vediamo questo, mettiamo il VDI, il gun, master arm su, andiamo giù in bassa quota, preparo i missili, suona perché sono in quota minima, metto il rilevo, 4.000, e poi vediamo la mia unica, la mia unica, ecco, la mia unica, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, potrei lanciare il missile e non lo faccio. Ok, potrei lanciare il missile, la faccio pagare. Ok, è racchiuso. E l'aereo in queste manovre traballa. Sta arrivando il missile, contro misure fuori, è andato giù, non vedo più niente, la forza G, siamo andati giù, siamo andati giù. Che forza, eh? Beh, quella volta era un'ammissione precedente a questa, è perché io l'ho messo in posizione favorevole, è molto difficile. Ma questa volta mi conviene fargliela pagare. Questa volta gliela faccio pagare, ve lo butto giù. No, ok, vabbè, è uguale, così faccio prima. Tempo che me è giusto qui. Ok, vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. andiamo su si è agganciato dal missile I.M il pilota si è morto si sgancia vediamo è messo male è morto proprio no si è sganciato no è dentro è dentro l'abitacolo questa volta sono andato in vantaggio io non gli ho dato la possibilità di girare e l'ho preso io volevo farvi vedere la manovra quella stretta vediamo se cambio la posizione russ engine crash score va bene questo è il punteggio ok allora vediamo di fare una cosa mi avvicino di più a lui ok forse così nel quadrante vediamo quanto sono vicino va bene così direi ok salviamo salva la data di oggi oggi è il 12 maggio 2021 c'è anche l'orario sono le 17.28 ok proviamo adesso per farvi vedere quella manovra di tenerlo stretto una manovra di ingaggio meno male che i missi sono già azionati il tv che non ho acceso ok ecco lì la manovra che lui gli do la possibilità di girarsi ecco sganciato il serbatoio ecco che stretto ecco la X non gli ho dato la possibilità di lanciare sta salendo è di quota l'aereo qui non tiene peccato che c'è il traballamento ma è brutto ha sganciato le contro misure ecco la è il traballamento che mi delude l'f15 non traballa ha sganciato il missile ecco ci ha presi no fortunatamente non mi ha preso lui è lassù non riesco a tenerlo non riesco a tenere l'aereo come vorrei io ma perché balla così è dietro cazzo fuori misure fate misure fuori misure fuori misure è dietro è dietro è dietro di me ok contro misure ci ha presi ci ha presi guardate guardate sopra sopra qui vedete il danno mi ha preso leggermente e mi ha danneggiato il radar vediamo a questo punto posso passare col gun ma niente espulsione mi ha danneggiato devo il traballamento non è che mi piace molto gli sono rimasti solo due misure aveva ok ok ha vinto ancora lui allora adesso proviamo a vedere invece di veterano mettiamo rocchie è la nuova io sono cosa sono 2.6 fra un po' c'è la 2.7 sono i nuovi aggiornamenti adesso vediamo un attimo al minimo che cosa fa lui lasciamo perdere il gun ecco lo tengo così ok l'ho chiuso niente non mi gira l'aereo si ok adesso è mio avete avete visto l'ho preso facendovi vedere abbassando la potenza dell'intelligenza artificiale quid vabbè mi ha dato una medaglia ok voliamo di nuovo così rivediamo le manovre allora ma quindi allora quindi bisogna abbassarlo perché lì è troppo forte ostia devo chiudere devo chiudere il video forse perché ogni tanto mi fa questo scherzo vediamo volando di nuovo se lo fa e il video finisco qui sì e purtroppo devo chiuderlo qua perché vedete la scheda grafica mi fa mi fa questo scherzo qui devo comprarmi un computer nuovo allora ho messo ritorniamo mig29S rocchi così potete prenderlo i suoi missili sono questi qui che sarebbero questi ok e ritorno da me il video si conclude qui se no dovrei raviare tutto i missili che li faccio rivedere i M9M sono 4 e 2 i M7M ok il video finisce qui vi ho fatto vedere un qualcosina anche per me perché mi sto un attimo mi al mano addestrando con l'IA perché non ho amici sono da solo qui non sono in un gruppo non sono online e si va avanti lo stesso auguro a tutti che è stato questa cosa qui un buon video una buona visione al prossimo video Joker Game chiude bye a tutti ciao ciao a tutti da Joker al prossimo video ciao a tutti